Leggi 29 settembre, un'emozionante raccolta di 75 racconti e 122 disegni ispirati alle immortali canzoni di Mogol Battisti. Immergiti nelle storie d'amore ed amicizia, che oscillano tra romanticismo, ironia e pura emozione. Lasciati trasportare dalla magia delle parole e delle immagini, che catturano le sensazioni di leggera follia delle loro musiche. Leggi ora questo libro e vivi un viaggio sensoriale unico nel cuore della canzone italiana. Puoi scaricare gratis l'ebook di 29 settembre di Franco Marani. Dal sito newslibri.it, il blog di recensioni letterarie, che promuove la cultura. Vai sul sito newslibri.it e scarica gratis l'ebook fino al 3 ottobre 2024. Il buio ci trovò vicino, un ristorante poi di corsa a ballare sotto il brazzo, lei stretto verso casa, abbracciato lei quasi come se non ci fosse che lei, come se non ci fosse che lei.